Si chiama 675 ed è la principale novità della gamma Look 2013. È una bicicletta che si posiziona in gamma leggermente al di sotto del modello di vertice 695, rispetto alla quale si ispira per il concetto integrato di concepire il telaio. La costruzione integrata è evidente sul tubo di sterzo, che utilizza un attacco manubrio dedicato, ma diverso rispetto a quello integrato usato dalla 695. In questo caso l'attacco manubrio si va a sagomare perfettamente sui limiti del tubo superiore e del tubo di sterzo. Nel dettaglio vediamo proprio la costruzione speculare dell'attacco manubrio in alluminio e di quello della zona sterzo che è in carbonato automotulo come del resto è tutto il telaio. Il collarino di bloccaggio del Regisella da 27,2 mm è anche questo integrato in una struttura. La 675 è compatibile sia con gruppi trasmissione elettronici, sia Shimano Dureis Utegra, sia quelli Campagnolo di generazione PS. Questo passaguaina sul tubo diagonale ci ricorda che il telaio è compatibile, volendo, anche con gruppi trasmissione meccanici. Scatola Movimento BB86 che integra direttamente all'interno della scatola le calotte di scorrimento. La 675 sarà disponibile nei negozi dal prossimo ottobre in 5 tagli da XS a XL. Il peso del telaio è di 1150 grammi in taglia M.